Una nuova vita per la tenuta medicia di Cafaggiolo, la splendida dimora della famiglia dei medici situata in Mugello, nei comuni di Barberino, Scarperia e San Piero. Il castello e la tenuta di 385 ettari di terreno sono al centro del progetto imprenditoriale della famiglia Lovenstein, un investimento di 170 milioni di euro per realizzare una struttura per l'ospitalità con 365 suite, bar, ristoranti ma anche tre spa, campi per il polo e l'equitazione. Un imponente piano di riqualificazione del patrimonio storico con un impatto occupazionale importante sul territorio pari a 2780 nuovi posti di lavoro. È un recupero straordinario di un pezzo della nostra storia, della storia del Mugello, meglio dire della storia di tutta la Toscana e in questo senso anche della storia del nostro rinascimento, della nostra cultura insomma, non solo Toscana ma italiana, europea e anche oltre. Mi sembra che la cosa da dire è che noi in Toscana è questo che vogliamo, che possiamo e che dobbiamo fare. Né Gardeland né Disneyland, non me ne voglia il Veneto e non me ne voglia Parigi, noi abbiamo tante strutture come queste e se troviamo imprenditori che sappiamo accogliere, con cui discutere, sono convinto che questo è un esempio che può essere seguito da altri investitori. Il progetto che è stato presentato oggi al Castello di Caffaggio lo prevede anche la realizzazione di due strutture museali, il Museo Medicio e un museo d'arte contemporanea. La tenuta medicia, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, sarà aperta non solo agli ospiti della struttura ma anche per visite guidate su prenotazione. Un progetto su cui la famiglia Lovestain ha deciso di puntare dopo aver visitato il territorio ed essersi innamorata di questi luoghi. L'America lo tiene tutto, uguale che l'Argentina, però la cultura, l'educazione europea è una cosa più profonda. Era preciso e necessario fare qualcosa al futuro della nostra famiglia e che meglio che l'Italia. Noi andiamo per tutto a parte ma per noi è l'Italia. Abbiamo visto vari diversi posti, incluso abbiamo fatto in più di 15.000 chilometri nella Toscana per vedere, ma noi come stiamo in questo business di albergo e di residenziale, lo principale è location, location, location. Dopo tu fai qualcosa di male ma si sopravvive. I lavori di riqualificazione delle antiche strutture saranno portati avanti secondo principi ecosostenibili, utilizzando materiali di recupero e creando un percorso slow, che unirà tutti i punti della tenuta, dentro cui ci si sposterà a piedi o a cavallo. Tutto verte sulla riqualificazione del patrimonio. Il patrimonio è vincolato con tutela diretta e indiretta, quindi abbiamo il cuore del progetto che è il castello e il borgo e poi 14 coloniche. Per cui tutto il progetto è ritornare indietro nella storia e far riassaporare alle persone che vivranno questa esperienza quello che è il vero valore della vita oggi, riconciliarsi con la natura, che l'abbiamo un po' perso. L'impatto economico dell'iniziativa sarà importante per tutto il territorio. Secondo uno studio del Centro Studi Turistici e dell'IRPET, l'investimento iniziale attiverà una ricaduta pari a 332 milioni di euro in Toscana, di cui 285 solo in Mugello. È ovviamente un progetto molto importante per il Mugello perché non solo valorizzerà un'importante testimoniata artistica e culturale come quella della Villa di Caffagioli e di tutta la tenuta, ma è anche un progetto importante perché comunque è un progetto turistico che quindi valorizzerà molto il territorio e tutto il Mugello. Quindi un progetto in cui noi crediamo molto, abbiamo sempre supportato la proprietà, dobbiamo dare atto ad Alfredo Loewenstein della grande passione che ha messo, si è innamorato del Mugello, si è innamorato con i fatti del Mugello e oggi possiamo presentare davvero un progetto che rischia di diventare in senso positivo davvero una svolta positiva per lo sviluppo territoriale e soprattutto turistico del nostro territorio.